Il mondo corre, soprattutto qui dentro. Milioni di occhi incollati al computer. Occhi da proteggere con una corretta illuminazione del posto di lavoro, come previsto dalla legge 626. E la tecnologia per illuminare l'isola computer è italiana. E salva la vista computer 626 Beghelli. Ha tre luci, due laterali per leggere meglio i dati, una centrale per illuminare come un faro la tastiera, senza riflessi, sullo schermo. Ora navigare su internet diventa per riposante, almeno per gli occhi. Salva la vista computer 626 Beghelli. I vantaggi li vedrete con i vostri occhi.